Abbiamo 1595,45 metri ed è un pezzo di Bari, più precisamente di Cella Mare, nella pizza da record, la più lunga del mondo, 1595,45 metri, realizzata ad Expo Milano fra sabato e ieri. Alla storica impresa ha partecipato Vito Zotti, pizzaiolo della NIP, nazionale italiana pizzaioli e cotitolare dell'antico arco a Cella Mare. Armati di mozzarella, passate di pomodoro e impasto, i concorrenti sono entrati nel Guinness dei primati, premio di oltre 15 ore di lavoro. La pizza è stata offerta ieri ai visitatori dell'Expo, oltre 35.000 pezzi letteralmente divorati. La nazionale italiana pizzaioli, costituita a Milano da 60 esperti, insieme ai rappresentanti della pizza più uno, è riuscita a raggiungere l'importante traguardo con una pizza lunga quasi 1,6 km, del peso di 5 tonnellate e contenente 1,5 tonnellata di mozzarella. La manifestazione ha avuto luogo sul viale Decumano di Expo. Per questioni di sicurezza, alla megapizza è stata data la forma di U percorrendo l'intero percorso del viale. L'iniziativa è patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole in collaborazione con Expo Milano. Il precedente record della pizza più lunga, 1.100 metri, era stato registrato in Spagna da una giuria londinese.